Ci troviamo a Magento, a lungo Corso Italia, dove un ciclista è stato investito da un'auto, sono giunti sul posto i mezzi di soccorso, Croce Bianca, Automedica e anche l'elisoccorso. La strada è stata bloccata al traffico, le condizioni del ciclista sono in corso di valutazione. La polizia locale sta svolgendo gli accertamenti. La polizia locale sta svolgendo gli accertamenti.